Questa ultima curva che sempre ha dato problemi, problemi anche gli danno il percorso lungo appena lanciata la volata quel brutto scivolone però possiamo dire che è stato un arrivo veramente eroico se devo tutte le volte che casco vinco preferisco cascare tutte le volte e vincere per cui non ci siamo fatti grandi danni però mi dispiace perché con i miei compagni di fuga abbiamo fatto una grande gara e concludere così la corsa ha rovinato un po' la festa, complimenti a me, complimenti a lui e sono molto contento per questa vittoria Mi dà un applauso a Lorenzo Ferrari per il team Serravaglio e Cilisandini con una bella bocca addosso e arriva anche Fabrizio Giardini